Alcune cose non hanno funzionato, perché sennò avremmo vinto. Quando non funzionano poche cose, anche poche cose bastano per non vincere la partita contro una squadra così forte. Avremmo dovuto fare la partita perfetta. Evidentemente così non è stato. Penso però che abbiamo fatto la partita corretta. Abbiamo recuperato parecchi palloni nella loro metà campo al primo tempo. Siamo stati aggressivi nella giusta maniera e abbiamo concesso qualche occasione grazie alle loro qualità migliori, che sono la velocità, la rapidità e la grande forza che hanno davanti. Gli errori capitano nel calcio. Qui non buttiamo la croce addosso a nessuno. Siamo tutti insieme. A volte ci premiano perché hanno sbagliato anche i nostri avversari in altre circostanze e ci hanno portato a vincere le partite e arrivare fino qui. Non mi arrabbierò mai con il mio giocatore perché sbaglia un passaggio e perché commette un errore. Può succedere. Ripeto, secondo me stava facendo una buona partita nel primo tempo. Anche quella chiusura nella chiusura di un giocatore che stava facendo una partita sia fisica che tecnicamente giusta. È ovvio che quell'errore l'ha colpito, diciamo. L'ha ammazzato no, ma l'ha colpito molto e la reazione pubblica è quella che uno si può aspettare. Cambiarlo a fine più tempo, sai, non è che avessimo tantissime alternative lì a destra. Dovamo stravolgere un pochino le cose e abbiamo fatto poi dopo un po' di minuti. Ma, ripeto, gli errori ci stanno, nel calcio ci stanno. Non è che ogni volta che un giocatore sbaglia un gol lo sostituisco, un giocatore che sbaglia una chiusura lo sostituisco. sarebbe troppo facile e sarebbe la maniera più veloce per dare la colpa a quell'episodio della partita che non è andata.